E sono tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a parlare di iOS 14.7.1 Perché è importantissimo aggiornare a questa versione di iOS Ma prima, sigla Beh ragazzi, oggi vi faccio il preambolo Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, come dividete il video Commentate e andate a seguirmi su Instagram e su Telegram Tutti i link sono qui sotto in descrizione Mentre per iscrivervi basta cliccare sul bottone iscriviti qui rosso Perché è importantissimo Sto facendo una fatica tremenda per registrare tutti questi video Perché ora devo andarmene al mare Pensate che questo video lo devo registrare ben due volte Perché la prima volta aveva deciso di non fare Di mettermi a fuoco alla fotocamera Cioè diciamo che era stato un po' pirla io Che aveva impostato la messa a fuoco manuale Però vabbè dai, questi qua sono dei piccoli particolari Comunque, in poche parole iOS 14.7.1 Coraggio tutti i problemi C'erano le versioni da iOS 14.4.5.6.7 Infatti c'era un problema con la batteria Che aveva il bilanciamento sbagliato Quindi se arrivate su iOS 14.7.1 E la percentuale batteria si ricalibra E vi cambia È tutto normale Ma ora vi dico una cosa Se avete la percentuale batteria sotto il 90% Vi consiglio di cambiarla Potete cercare direttamente sull'Apple Store Un luogo O un luogo, un Apple Store C'è il suo sito dell'Apple Store Sì Un Apple Store dove cambiare la batteria O chiamate il numero verde 800-554-533 In poche parole il numero verde di Apple Se voi chiamate questo numero verde Potrete chiedere di farvi una sostituzione della batteria Infatti se è sotto il 90% Cambiatela Però vi dico una cosa Perché la batteria su iOS 14.7.1 Potrebbe esservi più usurata In poche parole iOS 14.7.6 Avevano dei bug del Wi-Fi Che in pratica vi faceva resettare il telefono Quando vi collegate ad alcune reti Wi-Fi E quindi un consumo esagerato di corrente elettrica Quindi usure della batteria E poi avevano la calibrazione sbagliata Della batteria e della percentuale Cosa che rovina tantissimo le batterie Infatti ho notato Da iOS 14.7 a 14.7.1 Sono passato dal 94 al 92 E devo dire che Mi sembra più una batteria che ha il 92% Di stato batteria Sì dovrei cambiarla breve Piuttosto che il 94% Perché l'autonomia Si inizia Che non riesco più a fare le tre ore Ma mi arriva magari sulle due ore e mezza Soprattutto perché io il telefono Lo utilizzo per registrare questi video Per registrare questo audio Quindi lo schermo adesso è sempre acceso Quindi mi fa le ore di batteria E vedo che la batteria dura molto 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 di meno Poi Funzione importantissima Lo sblocco dell'Apple Watch Attraverso il Touch ID dell'iPhone Era stato disabilitato Per un errore Nelle versioni tra la 14.4 e la 14.7 Soprattutto Qui invece questa versione è stata corretta E poi Ci sono tutti i certificati di sicurezza Aggiornati da Apple Tutte le patch Che vengono chiamate Sono le patch di sicurezza Che sono aggiornate ovviamente A primo di agosto Anche se il primo agosto Quando io sto registrando il video È domani Mentre voi Serbi già passato Comunque È importantissimo Giornare la 14.7.1 Soprattutto per queste patch di sicurezza Per queste falle di sicurezza Corrette Ma soprattutto per il wifi Cioè volete mettere Non potervi collegare a una rete wifi Quello sì Che è un problema grave Quindi mi raccomando Se avete il jailbreak Vi ho già letto Vi lascio il video qui in alto Togliete questo jailbreak A giornata Io S14.7.1 Che piuttosto Per avere Quei tre tweaks squallidi Che ci sono ora sul jailbreak A giornata Io S14.7.1 Che secondo me È meglio E niente ragazzi Per questo video informativo Spero non lunghissimo È tutto Ne ci vediamo Se tutto va bene Domani con un nuovo video Ciao E alla prossima Ciao